Le Rossini Variation sono un progetto che nasce nel 2018 in occasione del 150 annale della scomparsa del grande compositore pesarese ed è un sono un mio omaggio un po' irriverente diciamo con rispetto ma con la mia simpatica irriverenza che qualcuno conosce che insomma suonando sul pianoforte utilizzando questi oggetti come catene, frullini, oggetti di uso più o meno domestico e sono delle mie trascrizioni e variazioni sulla musica ampiamente conosciuta come le overture dell'Italiano Algeri, della Gazzaladra o anche delle chicche che amo definire un po' più musicologiche come le variazioni sull'Appetite Messe Solennelle, l'ultimo grande testamento rossiniano il cui incipit che mi ha sempre fatto pensare ad un incrocio tra Mozart e Tom Waits sono veramente lo spunto per poter giocare, per potermi divertire anche in maniera polistilistica quindi sarà un concerto composto appunto da trascrizioni, variazioni e ricomposizioni potremmo dire quindi non mi resta altro che invitarvi domani sera 2 marzo all'ora 21 a Cantiano all'auditorium Sant'Agostino a presto! Grazie a tutti.